Nemici e nemiche della muffa, come promesso sono arrivato nel nostro magazzino in provincia di Bergamo e vi voglio raccontare per la prima volta, vi svelo qualche dettaglio inedito sul nostro lavoro e come nascono i prodotti che poi finiscono nelle case delle persone. Giro subito la telecamera, ho chiesto ai nostri ragazzi di lasciarmi un po' di spazio per raccontarvi che cosa succede qua sul tavolo operatorio e vi volevo raccontare dell'iniziativa che è partita praticamente da due giorni della Basta Muffa Challenge che è stata fortunata fin dal debutto, non mi aspettavo che durante la live di domenica ci fosse qualcuno che avrebbe voluto scommettere questi 29,90 che servono per avere questa scatola al prezzo di lancio per fare la cosiddetta prova di San Tommaso. Ora per chi non sa di che cosa sto parlando vi porto via un minuto e ve la faccio vedere, ne ho lasciata una aperta. Allora Basta Muffa Challenge nasce con l'idea di sfidare le persone che hanno provato tutto per risolvere un problema di muffa e non ce l'hanno fatta e sono molto più di quello che credete. Trovate un sacco di entusiasti della candeggina ma ce ne sono tanti delusi e siccome non vogliamo essere l'ennesima azienda che vuole vendervi il prodotto convincendovi chissà che cosa la cosa più bella è che questa volta potrete provare. Il nostro motto è sconfiggi la muffa e libera il colore per il semplice fatto che conosco o conosciuto tantissime famiglie che si sono dovute accontentare del bianco ospedale che io adoro tra l'altro perché il colore non si poteva mettere perché si ammuffiva e ogni volta dovevi trovare un colore che ci assomigliava. Quindi nei libretti che troverete aprendo questo kit semplicemente c'è la spiegazione di questa sfida. C'è un bel QR code che vi permette di andare a visitare la playlist per vedere i video come si applica questa challenge ma le sei cose importanti che ci riguardano sono che questa sfida porterà un risultato efficace. C'è una garanzia se torna la muffa in questa challenge vi ridò i soldi indietro con un bonifico i materiali usati sono atossici li possiamo colorare è semplice quindi vuol dire che possiamo tranquillamente cavarcela da soli e c'è sempre un angelo custode che vi dà una mano ma andiamo avanti. Manuale delle istruzioni come fare la challenge e poterla attivare con la sfida che permette di avere la garanzia soddisfatti o rimborsati. E poi arriva la parte importante perché ci sono quattro barattolini numerati e colorati non si può sbagliare con i prodotti da mettere in successione eccoci qua 0 1 2 3 e dovremo semplicemente applicare questi prodotti attraverso la cornice rossa guardate che carina l'appendo sul muro sul mio muro ammuffito ritaglio la parte interna e ci pitturo dentro letteralmente metterò questi prodotti e aspetterò che si formi la muffa dentro anche per anni. E la cosa carina è che c'è dentro una bellissima cartella colori a fisarmonica creata da un bravissimo color designer che vi permetterà di scegliere anche un domani una tinta che non sia il solito bianco. Poi altra cosa importantissima questo pezzo di ferro ma che roba è? E' una lamiera che prepariamo qua in magazzino che viene pitturata con il prodotto scudo termico il nostro fondo anticondensa che si mette sui muri più freddi e li rende molto meno freddi e attaccabili dall'umidità. Quindi se voi mettete questo pezzo di ferro in frigorifero esce qua bagnato e qui sentite una strana sensazione di caldo che dite ma com'è possibile ma non è una vernice normale? Sembra ma non è perché questo è un rivestimento anticondensa con tantissima proprietà isolante. Costa di più ovviamente rispetto a una normale vernice termica ma salva la vita. Tutte queste belle chiacchiere servono a poco perché lo scopo di questa prova è vedere ai fatti che questo materiale funziona. Questa è la basta muffa challenge. Tante persone già dal mese di agosto hanno voluto fare la prova e la faranno e io mi auguro che aspetteranno uno o due inverni quello che serve e per tutto il mese di agosto per gli amici di TikTok c'è anche il regalo alla videoconsulenza cioè la possibilità di poter parlare con qualcuno che ci dia qualche buon consiglio. Fine. Non ci sono altri obiettivi vogliamo semplicemente vincere la sfida sulla muffa di casa vostra per avere così una stelletta in più nei nostri casi risolti. Poi deciderete voi se ci può essere un seguito o no. Questa è la basta muffa challenge. Lunghissima storia però ve la volevo raccontare. Se volete continuare a seguirmi ovviamente sapete come farlo e se volete capire che cos'è questa maledetta basta muffa challenge seguitemi e cliccate sul link in bio per gli amici di TikTok questo vi porterà a una pagina dedicata dove il primo pulsante in alto rosso è proprio basta muffa challenge. Cliccate leggete e valutate se questa cosa potrebbe essere di aiuto a voi o ai vostri cari. Tutto qua direi che per ora è tutto e ora si torna a lavorare davvero. Ciao da Giuseppe e basta muffa.